100 kg di droga sequestrati, due organizzazioni criminali, una delle quali satellite dell'altra, operanti a Napoli e provincia, smantellate dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dalla squadra mobile di Napoli. Droga spacciata anche a Salerno, carrozzieri, autisti, al servizio dei narcotrafficanti. Sono 15 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, su delega del procuratore della Repubblica di Napoli nel corso di un'operazione condotta in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione e Criminalità organizzata e coordinata dalla Direzione Distrittuale Antimafia Partenopea. I soggetti sono gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, traffico e detenzione di droga, ricettazione, accesso in debito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di arma da fuoco, accensioni ed esplosioni pericolose e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini condotte dal personale della squadra mobile, della Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza hanno consentito di accertare l'esistenza di due organizzazioni criminali, una satellite dell'Arta operante a Napoli Torre Annunziata. Il primo sodalizio con base logistica nel quartiere Arenaccia commercializzava all'ingrosso lo stupefacente nei mercati clandestini partenopei attraverso corrieri che utilizzavano veicoli dotati di doppi fondi occulti appositamente realizzati da un carrozziere di fiducia completamente sconosciuto al fisco. Il secondo sodalizio con base operativa nel Comune Oplontino si riforniva stabilmente dalla prima organizzazione e distribuiva ingenti partite di narcotico ad acquirenti che lo destinavano poi alle piazze di spaccio di Torre Annunziata del suo Interland fino a Salerno e provincia. Nel corso delle attività investigative sono stati arrestati in flagranza di reato sette soggetti ed è stato sottoposto a sequestro quasi un quintale di sostanza stupefacente, cocaina ed hashish, nonché una pistola con matricola brasa, due caricatori, 33 cartucce e somme di denaro contante per oltre 820 mila euro. Uno dei corrieri utilizzati dal gruppo napoletano per le consegne del narcotico dopo l'arresto in flagranza di reato ha continuato a mantenere rapporti con il sodalizio attraverso dispositivi telefonici illegalmente introdotti in carcere. Contestualmente alle misure cautelari personali è stato eseguito il sequestro preventivo di due attività commerciali, un bar e una pizzeria di Napoli e fittiziamente intestate a soggetti incensurati dove gli indagati si incontravano abitualmente per pianificare i traffici illeciti e per ricevere gli ordinativi dei clienti nonché un motoveicolo e un autoveicolo nella disponibilità del promotore del sodalizio napoletano.